Un nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, il rotocalco che Tele Truria dedica all'attività del Consiglio regionale e come di consueto in apertura i titoli degli argomenti che andremo ad approfondire all'interno di questa puntata. Visita all'ospedale Cisanello di Pisa per la Commissione Sanità. Maria Vittoria D'Annunzio è la nuova Presidente del Parlamento regionale degli studenti. Stati Generali della Cultura, il confronto con gli operatori degli spettacoli dal vivo. Tappa all'ospedale Cisanello di Pisa per la Commissione Sanità del Consiglio regionale insieme al Presidente dell'Assemblea Toscana Antonio Mazzeo. L'iniziativa è parte di un tour annunciato a inizio novembre dopo gli Stati Generali della Sanità che è partita nel Grossetano alcune settimane fa e che ha lo scopo di visitare le strutture sanitarie della regione e di incontrare gli operatori nell'ambito di una funzione di programmazione ma anche di controllo e di collaborazione con i professionisti del sistema. La delegazione ha visitato il cantiere del nuovo ospedale, il Dipartimento di Emergenza Accettazione, il Centro Multidisciplinare di Chirurgia Robotica. Nel pomeriggio ha avuto poi luogo il confronto con la direzione aziendale, i professionisti dell'azienda ospedaliera universitaria pisana, le rappresentanze sindacali e il comitato di partecipazione. Oggi qui si vede il lavoro della politica. Io ricordo quando iniziai, il mio impegno in Consiglio Comunale si parlava di questa grande struttura e portava Pisa a diventare sempre più eccellenza mondiale nella sanità. Da quando divenni consigliere regionale mi impegnai perché quelle parole, quelle idee si trasformassero in fatti concreti. Essere qui oggi, vedere il cantiere che cresce, vedere tante donne e tanti uomini impegnati, realizzare un cantiere mentre l'ospedale in funzione non è semplice. Quindi un grazie a tutti, ai progettisti, a chi ogni giorno ci lavora, alle maestranze, grazie anche ai professionisti della sanità. Non è semplice riuscire a portare avanti tutto questo insieme. Oggi qui siamo con tutta la commissione consigliare in questo grande giro d'ascolto che abbiamo messo in piedi. Stare all'altezza degli occhi delle persone, dei loro bisogni, perché poi questa struttura va riempita di professionisti, di competenze, di tecnologia, perché il futuro della sanità passerà attraverso l'intelligenza artificiale, attraverso i big data, attraverso tutte quelle tecnologie che hanno un obiettivo, migliorare la vita delle persone, perché ogni scelta che noi facciamo la dobbiamo fare pensando al cittadino. Sull'andamento dei lavori al cantiere è intervenuto l'architetto Filippo Terzani. In questo momento stiamo realizzando e abbiamo realizzato buona parte di tutte le strutture del nuovo ospedale, quindi gli aspetti dei pilastri, delle fondazioni, di tutti gli scavi sono completati, la previsione di finire il cantiere per il 2025 e per attivarlo nell'anno successivo, il 2026. Questo progetto è un progetto molto grande che prevede la realizzazione di un grande numero di metri quadri, metri cubi, però non sto a tediarvi con questi dati, ci saranno tutte le degenze, tutte le terapie intensive, un ampliamento delle sale operatorie dell'attuale azienda ospedaliera Pisana. Stiamo studiando una serie di interventi di compendio alla realizzazione di un ospedale che è in corso, che riguardano anche aspetti di sinergia fra pubblico privato, nella realizzazione di nuovi spazi commerciali, di alcune attività diagnostiche e quant'altro, ma soprattutto e anche in questo momento sul risparmio energetico. Quindi noi stiamo studiando un comparto energetico che comprenda oltre all'ospedale di Cisanello anche i nostri vicini, il CNR, la Scuola Sant'Anna, l'Università e anche la Stella Maris, dove fare un comparto energetico dove condividere l'energia che viene comunque prodotta da noi. E uno degli aspetti che stiamo studiando con l'Università di Pisa è anche quello della geotermia. È emerso tanto che il cantiere sta andando avanti in maniera regolare, sta rispettando i tempi che sono fondamentali anche perché usa ovviamente parte dei soldi del PNRR. Ovviamente poi il tema dell'aumento dei costi c'è stato da 2022 a ora. L'azienda ha cercato di usare tutti gli strumenti per recuperare anche a livello nazionale l'aumento dei costi. È un tema che c'è su tutte le opere pubbliche, a maggior ragione c'è su un'opera di così importante, forse la più importante investimento della sanità toscana, però ci sono tutte le condizioni perché l'investimento possa andare avanti regolarmente e essere concluso nei tempi. Il presidente della Commissione Sanità è intervenuto anche sul confronto con le rappresentanze sindacali. Noi ci teniamo a parlare con chi lavora nel sistema sanitario direttamente, quindi con i professionisti, con le rappresentanti delle organizzazioni sindacali, perché da loro vogliamo sentire problemi che vediamo anche sui dati. Ovviamente le questioni principali sono il tema del personale. Qui a Cisanello non c'è un problema di trovare i professionisti che vengono a lavorare qui volentieri, ma c'è un problema dei limiti alla spesa del personale che noi sappiamo essere imposto dal livello nazionale e non eliminato. Ovviamente poi c'è il tema del rapporto con il territorio che è venuto forte, cioè come la mancanza di servizio sul territorio e di assorbimento delle richieste dei cittadini porta poi un accesso anche in proprio, soprattutto nel pronto soccorso, in Golfando e poi anche nel presidio ospedaliero. Quindi si conferma che questa necessità di investire sul territorio, cosa stiamo facendo come regione e come paese, perché è una misura del PNRR, sarà determinante ed è una sfida davvero che interessa anche a ospedali come questo. Sicuramente è una giornata interessante che fa seguito a quella che abbiamo già fatto a Grosseto due settimane fa. Direi che il progetto del Santa Chiara è veramente una cosa imponente, una cosa veramente bella. Ne testimonia la giornata del pomeriggio in cui abbiamo parlato con professionisti estremamente motivati. Ci sono state anche delle critiche, naturalmente. Critiche che noi di fatto già conoscevamo, in quanto specialmente noi, noi della Lega, il fatto delle tre asle l'abbiamo cavalcato, perché le tre maxi asle per noi non dovrebbero essere tali, ma dovrebbero essere a misura provinciale. E è stato testimoniato anche dal fatto che dice che la filiera di direttore generale cittadino è troppo lunga. Questo proprio perché c'è una distanza abissale tra le zone decisionali del direttore generale e poi come le ricadute che abbiamo sul cittadino. È un nosocomio di rilevanza nazionale e un attaccamento all'azienda molto importante. Sicuramente ci sono delle questioni economiche anche che dovrebbero essere riviste, in quanto diciamo che finora le mancanze della sanità toscana sono state in qualche modo tamponate dalla voglia di farlo da parte dei sanitari. Questo però a un certo momento dovrebbe essere ristorato con adeguate risposte economiche. Il nuovo Santa Chiara è uno dei progetti più belli che ci sono, più importanti, più centrali all'interno del sistema sanitario regionale. Io sono stato eletto per la prima volta in Consiglio Comunale a Pisa nel 2003. Il primo Consiglio Comunale ci mostrarono un rendering del trasferimento dal Santa Chiara a Cisanello dell'ospedale. Stamani mattina abbiamo visto un rendering del trasferimento da Santa Chiara a Cisanello. Nel frattempo quanto ci è costato trasferire un reparto da Santa Chiara a Cisanello, tornare a Santa Chiara e tornare a Cisanello un'altra volta, o trasferire pazienti avanti e indietro tutti i giorni. Quanto ci è costato tutto questo? Una voragine di soldi pubblici che speriamo trovi fine e soprattutto trovi conclusione questo trasferimento che va avanti da quasi 20 anni. Oggi è emerso quello che noi diciamo da tempo. Non è sufficiente dire servono più soldi. La sanità toscana costa 8 miliardi di euro l'anno. Dentro quegli 8 miliardi ci sono tante soluzioni. Noi non riteniamo che mettendo più soldi, se i soldi vengono spesi male, si risolva il problema, ma si spendono male più soldi. Noi riteniamo che debba essere riformata la struttura della sanità andando nel territorio, pensando a un nuovo sistema di interventi domiciliari, anche diagnostici. Le USCA, medici non specializzati, a volte giovani, giovanissimi, ci hanno dimostrato come sia possibile un intervento presso il domicilio del paziente. Anche una diagnostica avanzata presso il domicilio del paziente è una cosa che evidentemente decongestiona il pronto soccorso, decongestiona gli ospedali e crea un sistema più armonico e complementare. Maria Vittoria D'Annunzio è la nuova presidente del Parlamento regionale degli studenti. Ad aprire la prima seduta di insediamento, il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, presente assieme ai consiglieri Francesco Gazzetti e Diego Petrucci. Il Parlamento regionale degli studenti è un organo democratico di rappresentanza degli studenti degli istituti secondari di secondo grado della Toscana. Dura in carica due anni ed è composto da 60 studenti. I giovani sono i protagonisti del nostro tempo e vorremmo costruire insieme a loro il futuro. Un grazie al past president, a Mauro Cioci, un grazie a un grande in bocca al lupo, a Maria Vittoria D'Annunzio. Avrà di fronte a sé la necessità di lavorare coinvolgendo tutte le ragazze e tutti i ragazzi toscani. Il nostro obiettivo è dare voce a chi ha meno voce. Possiamo costruirlo insieme e credo, anzi, mi auguro che costruendolo insieme possiamo dare quelle risposte che in questo tempo difficile della pandemia non siamo riusciti a dare. Una bella sfida, una sfida collettiva, ponendo sempre un obiettivo di fondo. Un bimbo che nasce in un piccolo comune della nostra regione, nel più piccolo deve avere gli stessi diritti di un bimbo o una bimba che nascono a Firenze. È una grande sfida, una sfida che possiamo vincere solo tutti insieme. Io sono ancora in credula, non riesco ancora a capacitarmi, non penso di averlo ancora realizzato. Sono felicissima soprattutto perché ho visto una vera partecipazione anche nel seminario che abbiamo svolto a Montecatini in questi giorni parlando di parole, pace e quindi l'importanza della comunicazione in tempo di guerra. Ecco, io penso che la comunicazione sarà il punto in cui più mi impegnerò a far rispettare. perché la comunicazione è quella che serve non solo per far conoscere il nostro organo ma anche per dare voce a chi in questo particolare periodo storico non ha la possibilità di esprimersi come noi. È stata una bellissima esperienza formativa che ha dato tanto e di cui ricorderò tanto. Purtroppo lasciare il testimone è parte di questa esperienza ma sono tranquillo a lasciarle a una persona che secondo me farà un ottimo lavoro. Il primo incontro è stato ospitato dalla città di Livorno. Proseguono le consultazioni degli stati generali della cultura con la commissione presieduta dalla presidente Cristina Giacchi che ha incontrato gli operatori degli spettacoli dal vivo. Devo dire che un effetto della pandemia positivo, minimo, è stato che si sono creati dei coordinamenti informali tra gli operatori del mondo della cultura che sono notoriamente più settori a più alto tasso di individualità. Stiamo cominciando a interloquire con questi coordinamenti per mettere in luce insieme a loro quali sono le priorità di intervento, le necessità, i bisogni per organizzare in modo più strategico l'investimento pubblico in questi settori che sono settori importanti come anche condivide gran parte della popolazione toscana. Oggi siamo a Livorno per la prima tappa in presenza degli stati generali della cultura che hanno proprio questa finalità. insieme disegnare il futuro delle politiche culturali in regione toscana farle diventare, metterle al centro dell'attività di programmazione strategica della regione toscana perché come ci ha rivelato l'indagine condotta online e valutata da IRPET è un settore che impiega quasi 100.000 lavoratori in Toscana e che produce il 2% del PIL senza contare l'indotto turistico che invece genera il 12% del PIL. È importante che ascoltiamo le loro richieste, il loro modo di lavorare, eccetera. È quello che stiamo facendo proprio con gli stati generali della cultura capire prima come sono le cose per provare poi a fare qualcosa a livello legislativo per poterli proprio aiutare. Siamo qui oggi in questo bellissimo museo a Livorno ed è la prima uscita della commissione proprio per incontrare noi, le persone, del mondo dello spettacolo, dal vivo, in particolare oggi della musica. Quindi siamo qui per ascoltarli, continueremo ad ascoltare altre persone in seguito facendo appunto queste uscite sui vari territori e poi tireremo le somme perché la cultura in Toscana deve essere veramente strategica e quindi avere una programmazione seria. Questa è la richiesta espressa dal coordinamento informale della rete dei promoter della Toscana. Emendare un'integrazione all'attuale legge regionale che non parla di noi, non parla della nostra filiera, non parla dei nostri live club, delle nostre imprese culturali e creative legate alla musica dal vivo, non parla nella specificità di un settore che produce indotto, che produce coesione sociale con i live club, che produce occupazione giovanile, occupazione di genere altamente specializzata e produce indotto sui nostri territori. Quello che la cultura produce non è il valore aggiunto che la cultura produce è legata alla ricchezza molto concreta, molto economica legata all'indotto che la musica dal vivo produce nei territori all'interno dei quali va ad operare. Pertanto non c'è niente di più concreto in termini economici della produzione e della distribuzione culturale nei nostri territori. È opportuno che una legge regionale di una regione come la nostra, che ha una grande vocazione, una grande storia culturale e creativa, è indispensabile. È indispensabile che questa legge parli dei nostri luoghi della cultura, dei nostri presidi culturali. Questa era la nostra ultima intervista, grazie dunque per la cortesia e attenzione. Vi ricordo che Cronache e Commenti torna la prossima settimana.